Siamo in questa vetrina internazionale molto importante di videocataratta e refrattiva 2015 in cui sono delle principali importanti novità per quello che riguarda la chirurgia refrattiva della cataratta e la chirurgia refrattiva conservativa in cui non si esporta il cristallino naturale. Siamo nello stand di una delle principali aziende internazionali e mondiali che producono lenti intraoculari fachiche che si impiantano negli occhi per eliminare i difetti di vista senza asportare il cristallino naturale. Quindi una chirurgia refrattiva conservativa che guarda al futuro al preservare la cornea, al preservare la lente naturale che è il cristallino in previsione di un futuro in cui il paziente dovrà eventualmente fare una chirurgia della cataratta, in cui dovrà fare qualsiasi tipo di diagnostica o di trattamenti terapeutici per i propri occhi. Abbiamo l'opportunità di poter proporre ai nostri pazienti un trattamento conservativo che non altera le funzioni anatomiche, fisiologiche e tutti i parametri dei calcoli del cristallino per un futuro intervento di cataratta.